Siglato nella mattinata di oggi il protocollo d'intesa tra prefettura di Sondrio, ufficio scolastico territoriale ed organi di informazione della provincia. L'atto primo di un progetto, di fatto una sorta di alleanza che favorisca la coesione sociale, lo spirito di appartenenza ad una società nella quale tutti i giovani vengano indistintamente coinvolti, creando così i presupposti per un distanziamento da insidie purtroppo sempre in agguato e che non risparmiano la nostra provincia. I dati non confortano e sono lì a dimostrare che purtroppo il ricorso agli stupefacenti, al consumo di alcol, alle ludopatie, all'atto estremo del fenomeno dei suicidi, tristemente distintivo di questa provincia, si confermano minacce concrete e richiedono un massiccio lavoro di prevenzione. La scuola rappresenta subito dopo la famiglia la prima palestra sociale nella quale i giovani si identificano ed è così che la triangolazione tra prefettura, UST e media darà luogo ad un'idea già abbozzata con l'ex prefetto di Sondrio, Paola Spena. Un progetto nel quale gli studenti delle secondari e superiori e gli istituti scolastici di riferimento avranno modo di sperimentare attraverso laboratori, seminari, esperienze sul campo, cosa sia la vita di redazione e come si costruisca l'informazione in un periodo storico nel quale soprattutto i giovani, principali utilizzatori della rete, entrano a contatto quotidianamente con dati troppo spesso specchio di un'informazione di bassa statura. Vorremmo periodicamente trattare tematiche di interesse attuale soprattutto per impegnare culturalmente i ragazzi in attività trasversali e allontanarli il più possibile da quelle che sono le insidie del momento e quindi alcol, droga, ludopatia, bullismo, cyberbullismo. Un'idea di studente che non riceve più passivamente come era una volta nella vecchia concezione scolastica le nozioni ma che di fatto diviene un ricercatore. Sì, infatti proprio con l'aiuto degli organi di informazione vorremmo individuare anche momenti importanti di conoscenza di quelle che sono le tecniche di comunicazione in modo che si possa distinguere l'informazione che ha una fonte da informazioni che sono basate su quello che si dice in giro e che non è fondato. Oggi abbiamo di nuovo bisogno di insegnare ai ragazzi come si parla, come ci si esprime e quali sono le regole della comunicazione. Altrimenti rischiamo veramente di avere in futuro ragazzi con una povertà lessicale terribile e soprattutto che non sono in grado di distinguere il valore di quello che leggono, la veridicità di quello che leggono o ascoltano e quindi di considerare tutto nello stesso modo. Noi dobbiamo assolutamente evitare questo pericolo e grazie alla disponibilità della prefettura e grazie soprattutto all'impegno di voi che vivete ogni giorno il mondo della comunicazione credo che realizzeremo un progetto sperimentale di ampio livello che potrà essere anche un modello per il resto della Lombardia e anche per il resto dell'Italia. Avvio del progetto previsto ci si auspica dal mese di ottobre con la visita nella prefettura a sede di rappresentanza del governo nella nostra provincia. Da parte nostra l'augurio è che l'iniziativa divenga anche per gli stessi operatori dell'informazione in tutte le proprie espressioni, dalla carta stampata ai media online e fino alla televisione, un'opportunità di riflessione sull'importanza del rispetto dei doveri deontologici spesso dimenticati.